Ciao ragazzi, buon pomeriggio è pomeriggio l'una del pomeriggio sì, più o meno volevo mostrarvi qualcosina che ho combinato questi giorni e niente, partiamo allora, prima vi mostro qualcosa che ho fatto sempre per le cover allora, ho fatto un po' di zum zum, non so se li conoscete zum zum qui peluche della disney che si vede solo le faccine allora questi sono, per adesso ho fatto questi topolino ho fatto la base color biscotto e poi sì, per farlo sembrare un cookies sapete i biscotti decorati che usano in america molto carini allettanti e niente questo è il primo che ho fatto infatti è il più brutto di tutti secondo me topolino poi ho fatto un alice perché la volevo aggiungere alla cover di alice carina winnie de pooh e tigro penso si chiami tigro carini sì, hanno sempre la base biscottosa perché ho detto già che mi sono ispirata ai cookie e poi paperino e paperina che carini sono simpatici niente di eccezionale però insomma non è che sono tanto facili da fare ci ho messo parecchio tempo per farli poi sempre a forma di cookie ispirandomi a dei cookie che ho visto su internet ho fatto questa rosellina l'ho anche lucidata ok, si vede lucido ho usato il lucido della scalp pay perché il lucido della Fimo non mi piace questa tazzina che non so se aggiungerà la cover di alice ma non credo la metterò su un'altra cover carina questa fetta di torta carina anche lei sempre retro biscottoso questa boccettina di profumo che mi piace tantissimo veramente tanto mi piace questa boccettina riuscita bene anche qui ci ho passato il lucido si il lucido l'ho praticamente passato dappertutto poi ho fatto questa scatoletta di cioccolato che non è finita perché così è proprio orrida non sa né di te né di me però cosa ho fatto ho messo i dolcetti cioccolatini ho fatto la scatola e poi devo riempire tutti questi buchi con la resina rosa e qua anche devo passare tutto intorno ai pasticcini con la resina sempre rosa adesso ve la faccio vedere così diciamo lo scheletro dopo di che quando l'avrò finito avrò colato la resina ve la faccio vedere finita poi ho fatto un po' di charm per braccialetti questi qui sono sempre ispirandomi ai cookies perché hanno la base biscottosa e poi niente un po' di fiori un po' di cuore un po' di un po' di tutto anche questi li ho lucidati gli ho messo anche un brillantino a forma di cuore insomma fanno un po' di colore ecco poi ho fatto una essa per una ragazza che me l'ha chiesta il mantello si piega ma non si spezza è una cosa fantastica questa cosa qua anche di qua si piega ma non si spezza e vai beh ragazzi lo sapete che il fimo trasparente traslucido fa questo effetto qui per cui se non volete che le vostre creazioni si rompano gli aggiungete un po' di fimo traslucido fimo trasparente e anche il premo trasparente fa la stessa comunque niente questa è la Elsa mi piace piace tanto e anche a una ragazza è piaciuta bella poi ho fatto tre vampirelle perché ci stiamo avvicinando a this is halloween this is halloween ad halloween e allora ci stiamo preparando si le mie sono sempre dolcissime una vampirelle dolcissime dolci bella mi piace le ali glielo fatte con il tutorial sempre che vi ho mostrato un po' di tempo fa in stessa maniera gli ho messo un po' di glitter vediamo senza luce no senza luce non si vede proprio nulla meglio con la luce oggi allora questa qui è diciamo gli ho fatto i ciuffetti rosa e le ali sono infatti sul rosa i glitter mentre questa l'ho fatta verde e violetto e i glitter sono sul violetto dovrebbero essere mentre questa l'ho fatta bionda con il vestitino rosso e le ali infatti sono sbrilluccicose arancioni niente e poi veniamo al pezzo forte ci ho messo tutta la mattinata praticamente tarararam taratandam allora questa cornice a forma di casetta l'ho fatta per la mia amica una mia amica che stasera andrò a trovare siccome ha cambiato casa da poco è il mio pensiero per lei per augurarle insomma tanta felicità in questa casa nuova dove 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 è adesso i gattini li ho messi perché lei ha due gattini c'è sì mi c'è voluta tutta la mattinata ho messo i suoi colori preferiti che dovrebbero capirsi e il rosso un po' di blu poco blu perché a me il blu non piace e allora faccio fatica a usarlo però gli ho messo le mezze perle blu poi sono fissati un po' con l'america tutti e due per cui gli ho messo le stelle i fiori perché comunque anche lei è una persona dolce sensibile e i fiori insomma i fiori particolarmente piacciono le persone sensibili o anche no non lo so mi è stato detto così vabbè comunque e niente ne vado particolarmente fiera e rattoppi perché lei è una mezza sarta e anche perché hanno avuto problemi in questa casa e per sistemarla aveva avuto un po' di problemi per cui rattoppi di qua rattoppi di là però adesso insomma si è sistemata questo è il retro niente di che il gancino per appenderla e niente ragazzi spero che piaccia anche a lei stasera lo saprò e niente ci vediamo alla prossima ma si dai ciao ragazzi vi saluto con la casetta per Alessandra ciao ragazzi